Incredibile dramma, fidanzato picchia la giovane ragazza fino a farla abortire. Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Una giovane donna, residente nella pittoresca Licata, nell'Agrigentino, ha vissuto un incubo di abusi fisici perpetrati dal marito, culminati drammaticamente in un aborto forzato. La scioccante notizia ha visto la luce di recente grazie al coraggioso intervento dei medici, a cui la donna si è rivolta dopo l'ennesima aggressione. Il cupo scenario si è svelato quando la vittima, presentandosi al pronto soccorso dell'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, con evidenti segni di maltrattamenti su tutto il corpo, ha suscitato l'allarme immediato del personale medico. Quest'ultimi, con prontezza, hanno segnalato il caso alle autorità competenti, scatenando così una serie di avvenimenti che hanno portato alla protezione della vittima. La donna, finalmente allontanata dalla casa coniugale insieme ai propri figli, è stata trasferita in una struttura protetta. L'intervento tempestivo della polizia ha garantito la sicurezza della vittima, che solo in un ambiente protetto ha trovato la forza di denunciare gli anni di orrore subiti. Travessazioni, minacce di morte e violenze fisiche, la testimonianza della donna ha dato il via a un'indagine finalizzata a perseguire il compagno per gli abusi domestici. Il susseguirsi degli eventi, reso ancora più angosciante dalla perdita del bambino durante le percosse inflitte durante la gravidanza, pone una serie di interrogativi che solo il corso dell'inchiesta potrà risolvere. Cosa porterà alla luce questa indagine? L'uomo verrà arrestato o, come al solito, sarà libero di finire ciò che ha iniziato? Attendiamo fiduciosi ulteriori sviluppi e i vostri preziosi commenti.